Salve ragazzi, allora, dato che ieri sera non avevo fatto questo video che non riguarda il calcio ma riguarda sempre il processo su Fabrizio Corona ieri sera mi sono occupato di Parma-Juve, che è stata una partita in cui sono stato molto contento di aver vinto oppure avendo sofferto e sono sincero, ancora le immagini della Rai non sono riuscito a dire che io ero in terreno fuorigioco al momento del passato perché hanno detto, e proprio al limite, decisioni difficili, molto difficili e non riescono a decifrarlo neanche loro però sembrava io rente leggermente, leggermente avanti comunque, ragazzi, c'è chi dice che in Italia non c'è giustizia c'è in Italia che dice che i magistrati fanno tutti schifo c'è chi dice che solo in Italia chi dice che la magistratura è tutta corrotta, che fanno schifo io non ho mai pensato questo, io penso che la magistratura sia una fonte di... sia la giustizia, sia la giustizia, la magistratura, come ho detto l'altra volta ci sono dei magistrati corrotti, ma ci sono tanti magistrati seri e vedete, questi magistrati seri hanno deciso di fare quello che dovevano fare cioè la Cassazione ha annullato la riduzione delle pene a Fabrizio Corona e gli ha dato 13 anni di galera giustissimo, giustissimo non si può... io non potrei essere più contento per questo fatto perché gente come Corona deve rimandere in galera il più possibile è un delinquente, era un delinquente ed è un delinquente e rimarrà un delinquente anche quando morirà è stato un cattivo esempio per noi giovani c'è gente che invece lo ha preso come esempio e non va assolutamente bene è una persona di merda è un delinquente un delinquente e lo stanno dimostrando dopo tutti potete dire quello che vi pare di politici, ci sono dei politici che rubano e non gli fanno niente sono d'accordo però alcuni politici sono in galera anzi sì, alcuni politici sono in galera certo, non tutti però qualcuno in galera c'è anche di politici qualcuno in galera c'è anche dell'imprenditoria qualcuno in galera c'è anche del mondo del calcio ce ne sono tanti che sono in galera vedete, la cosa che io non comporto è che ancora in Italia c'è gente che difende Corona ed è per questo che l'Italia rimarrà un paese mediocre che non riuscirà mai ad alzarsi perché vedete ragazzi la Cassazione non è che ha fatto una cosa astronomica incredibile incredibile solo perché siamo in Italia se Corona avesse fatto una cosa del genere in America a lui lo ammazzavano lo ammazzavano perché se lui andava in un posto in America dove ancora la pena di morte c'è lo ammazzavano lui moriva o con l'iniezione o in qualche altro modo però lo avrebbero ucciso tranquillamente per tutto quello che lui ha fatto ne sono assolutamente convinto perché non è che in America ti uccidono ti condannano la pena di morte solamente se solamente se uccidi una persona ti condannano la pena di morte per quanti illeciti fai se fai se storci soldi se storci soldi e continui a farlo sempre se continui a fare illeciti lui era vicino molto vicino molto vicino se non lo avessero ucciso in America gli avrebbero dato tranquillamente un carcere di massima sicurezza invece siamo in Italia l'Italia è molto più leggera però i giudici non è che traballano tanto i giudici sono persone che devono giudicare e la Cassazione ha giudicato ottimamente secondo me perché uno come Corona non può chiedere lo sconto di pena perché sta male in carcere stanno tutti male quando sono in carcere però quando facciamo i delinquenti fuori stavano bene la vita non è così la vita è una e tu devi cercare di tenerla da conto se poi vuoi fare il delinquente è una tua scelta però dopo te ne devi assumere le tue responsabilità di quello che hai fatto Corona non se le sta assumendo però in carcere ci starà per altri 13 anni uscirà 13 anni più vecchio e 13 anni sono tanti non sono pochi e quindi ragazzi questa è una sentenza che a me personalmente mi è sembrata no giusta perfetta indiscutibile e un inciso un inciso è stato arrestato anche il marito di Elena Chester per l'omicidio per quell'omicidio vi ricordate? sì diciamo che no di Meredith Chester scusate di Meredith Chester anche quella secondo me è una è una cosa giustissima da fare è una cosa giustissima da fare che non ha non ha obiezioni però non voglio entrare nel merito di altri processi io mi baso su questo su questo la sentenza è giustissima ragazzi se domani sera venerdì se non c'è nulla penso che ci rivedremo sabato sera con il commento di Roma Empoli se domani sera ci dovesse essere qualcosa ragazzi rifarò i video stasera ho messo anche il video della Juve contro il Real Madrid del 2003 l'ho messa ragazzi perché a me era una bella cosa per ricordare lo squadrone della triade e per non far dimenticare che quello squadrone non è che vinceva solo in Italia non è che vinceva in Italia e basta perché in Italia era aiutato vinceva in Italia perché perché era molto più forte degli altri e infatti quell'anno avendo il campionato e in Europa arrivava sempre in semifinale purtroppo la Juve perdeva tanti finali soprattutto i rigori l'ha perse perché è Sascarogna però era uno squadrone era uno squadrone e avrebbe vinto minimo 4 Champions avrebbe vinto la Juventus in questi anni ne sono convinto perché ancora non c'era né Bayern né né la Madrid né Barça non c'erano i squadroni che ci sono adesso comunque ragazzi ci rivediamo o domani sera o sabato sera ciao ragazzi sempre forza Juve ciao